nel 2021 nelle sale cinematografiche italiane uscì una famiglia mostruosa una commedia in salsa horror diciamo diretta da volfango de biasi che voleva essere un omaggio made in italy alla famiglia adams con le commedie di volfango de biasi così come con quelle di neri parenti del compianto carlo vanzina ci sono comunque cresciuto volfango de biasi poi diresse anche alcuni cine panettoni in quel periodo di transizione in cui si passò da una comicità magari anche più volgare ad un qualcosa di più equilibrato con questa sorta di cine panettone di spionaggio del tipo natale col boss oppure natale a londra dopo che già neri parenti provò a indirizzarsi verso il sentimentale con colpi di fulmine colpi di fortuna comunque devo dire che una famiglia mostruosa lo trovai molto carino riuscì a divertirmi per di più l'ho anche rivisto prima di andare a vedere al cinema il seguito proprio perché dal 21 di giugno troviamo nelle sale un matrimonio mostruoso sempre diretto dallo stesso regista tra l'altro aderisce all'iniziativa cinema in festa quindi potreste andare in sala e pagare 3 euro e 50 perché dal 16 giugno al 16 settembre tutti i film italiani ed europei manterranno questo basso prezzo quindi andate al cinema perché è importante poi scegliete voi il film da vedere ricordatevi però italiani ed europei non americani per i film americani paghereste prezzo intero devo dire che invece per questo secondo capitolo la delusione sia stata cocente quando vedi il primo più che altro mi divertiva il fatto di mettere a paragone una famiglia mostruosa in senso letterale quindi composta da vampiri streghe fantasmi e chi più ne ha più ne metta contrapposta ad una famiglia di burini di beceri e rozzi romanacci che forse erano più mostruosi che i mostri stessi quindi c'era questo parallelismo che mi faceva divertire con un cast ben scelto massimo ghini lucia ocone saraciocca ma anche dall'altro lato lillo e ilaria spada poi c'era la partecipazione di pippo franco di barbara boucher questo secondo capitolo l'ho trovato di un'inutilità estrema sono andato a vederlo a luci cinemas di bicocca il primo giorno di programmazione all'ultimo spettacolo della sera alle 10 e 25 in sale eravamo circa otto persone ma sin dall'inizio ho capito quanto questa storia fosse raffazzonata il difetto più grande lo si potrebbe indirizzare alla forzatura che la trama presenta di continuo volendo a tutti i costi utilizzare ancora questi personaggi mostruosi quando wolfango debiasi avrebbe potuto dirigere un altro film con un'altra famiglia anche mantenendo gli stessi attori che niente avesse a che vedere con i mostri con i poteri paranormali perché benissimo la storia che viene raccontata in questo film si poteva adattare a persone in carne ed ossa a persone umane non a vampiri a streghe almeno per l'80 per cento poi ad un certo punto siccome forse anche il regista stesso si è accorto cavolo sto facendo un film sui mostri bisognerà utilizzarli anche dei poteri o altro inserisce qua e là degli espedienti inutili delle cose che poteva benissimo evitare proprio per ricordare al pubblico sto facendo un film sui mostri in parole povere il film parla di un matrimonio mostruoso uno può pensare visto che nel primo film i veri protagonisti erano ad alberto e luna cioè emanuela rei e cristiano caccamo si poteva pensare che si sposassero visto che sul finire della pellicola precedente avevano messo al mondo due bambini ed invece no il matrimonio che il film vuole raccontare è praticamente quello che poi non vi rivelo se si faccia o non si faccia fra massimo ghini vladimiro e ilaria spada cioè stella perché la pellicola inizia con la morte presunta o no scopritelo voi di nando cornicioni quindi di lillo al contempo ilaria spada che ricorderete fosse una donna che pensa solo ai soldi molto cinica a cui dei sentimenti non importa niente lei vuole subito attaccare cappello perché non ha più un soldo perché comunque è indebitata e quindi dice se io mi sposassi con il conte vladimiro avrei tutti questi castelli a disposizione avrei insomma quella ricchezza di cui ho bisogno vladimiro viene un po' manipolato da stella c'è il personaggio di brunilde che in questo film ha subito un recasting perché non è più interpretato da lucia ocone bensì da paola minaccioni che da un momento all'altro si sente messa in secondo piano per di più sta perdendo i poteri perché ha questa sorta di menopausa che sta vivendo e quindi il film vorrebbe giocare su questo matrimonio forzatissimo fra stella e vladimiro con nel frattempo ad alberto e luna che diventano due comparse si poteva pensare che il film si basasse sulla crescita dei bambini come si diventa genitori siamo in grado di fare i genitori ed invece no loro diventano dei comprimari che ogni tanto si vedono proprio perché bisogna metterceli con l'aggiunta di new entry che lasciano proprio il tempo che trovano ad esempio si scopre che stella abbia due sorelle due sorelle qua inizio a fare qualche spoiler quindi nel caso voleste vedervi questo film senza che io riveli niente chiudete il video e poi tornate ad ascoltarmi però capirete quanto vi comprometterei la visione comunque scopriamo che abbia una sorella di cui mai si era sentito parlare precedentemente che sia scappata con nando cornicioni che in realtà non è morto ma è scappato in un paradiso fiscale portando tutti i soldi con sé per non andare incontro alla guardia di finanza con sé si è portato dietro la sorella di stella con cui effettivamente sta tradendo la moglie scopriamo però che la sorella di stella fosse in realtà la moglie del fratellastro di nando quindi di ricky memphis pensate voi che rigirio inutile quando la stessa trama poteva benissimo essere raccontata in un film che non avesse niente a che vedere con la famiglia mostruosa perché ditemi voi che senso abbia riportare quei personaggi sullo schermo quando tutte queste cose con il paranormale con il vampirismo con la stregoneria non ha niente a che fare bastava raccontare la storia di una famiglia in cui il marito scappa in un paradiso fiscale si porta dietro la moglie del fratello quindi problemi a livello familiare doppi sensi corna insomma situazioni già viste e riviste e quella comicità che in questo film anche viene meno solo con la new entry di maurizio mattioli così becera così burina io adoro maurizio mattioli ogni tanto mi sono divertito mattioli che si innamorerà di paolo calabresi lo zio che qua si mette in testa un cervello che apparteneva ad una donna e quindi inizia a comportarsi da donna ad atteggiarsi come donna c'è anche greg se nel primo film c'era lillo qua abbiamo greg che interpreta victor frankenstein ora solo nell'ultima parte ci si ricorda di utilizzare il sovrannaturale perché comunque è un film che si intitola un matrimonio mostruoso seguito di una famiglia mostruosa ma con espedienti che potevano benissimo essere evitati per concentrarsi su un film che niente avesse a che vedere sul paranormale ma poi per essere ancora più specifici tutto ciò che concerne l'arco narrativo di nando cornicioni va in pieno conflitto con tutto quello che ci raccontavano nel primo nel primo capitolo se ricordate una famiglia mostruosa si apriva con nando cornicioni che accoglieva in casa sua per halloween dei bambini a cui raccontava una storia di paura sul finire del film scoprivamo che tutto ciò che nando raccontava fosse in realtà la storia del film e che quei bambini che erano con lui mentre raccontava a quest'altri bambini mascherati fossero i nipoti quindi i figli di ad alberto e luna cresciuti si vedeva che regnava un clima sereno pacifico amorevole qua invece mi ridimensionano mi cambiano mi stravolgono il personaggio di nando cornicioni facendolo passare come uno che abbandona la famiglia che scappa con la sorella della moglie che va in un paradiso fiscale che se ne frega totalmente della figlia che se ne frega totalmente degli amici la giustificazione che da stella è ma te ne sei andato perché ti ho tradito quando nel film precedente si capiva che lui fosse anche tra virgolette cornuto e contento quindi qua uno stravolgimento totale forse han deciso di non farlo morire proprio perché sapevano che nel film precedente poi avrebbe raccontato quella storia ai bambini per halloween nel futuro però così il tutto è forzatissimo perché noi spettatori dovremmo credere che poi in qualche modo tutto sia giusti ma il film finisce con lui che viene denunciato da ricky memphis e che quindi presumibilmente finisce in carcere quindi noi dovremmo ipotizzare che anni dopo tutto sia tornato a posto che tranquillamente stia con i nipoti dopo aver abbandonato la famiglia ed è un qualcosa che entra in totale conflitto con il film precedente quindi non c'è nemmeno la voglia di trovare una trama visto che magari lillo non poteva tornare sul set e quindi presta esclusivamente la sua voce con una controfigura che lo interpreta potevano inventarsi una trama boh del tipo lillo è fuori per lavoro e intanto si può parlare del matrimonio di ad alberto e luna visto che nel primo film si esplicitava quanto fosse difficile farsi accettare dagli umani qua si poteva pensare ad una storia in cui gli esseri umani hanno scoperto il nascondiglio del conte vladimiro e della contessa brunilde e quindi potevamo vedere come nel primo film si mettevano a paragone le famiglie mostruose in modo letterale e anche proprio mostruose nel senso di becere volgari e così via qua si poteva parlare che ne so dell'essere umano che infastidisce la famiglia mostruosa che la considera quasi da mostrare a tutti come se fossero un grande circo boh avrei potuto pensare anche ad un film in cui i genitori si relazionassero con i figli quindi ad alberto e luna hanno messo al mondo due bambini che diventano delle comparse non sono più i protagonisti loro due per di più c'è anche un'altra sorella di stella che è inutile che arriva lì con il figlio che bullizza il cugino il cugino che poi si vendicherà tra virgolette e poi abbiamo questa mummia che in realtà se tu spogli dalle bende è un uomo obeso mi spiegate il senso di questi personaggi almeno nel primo pippo franco era simpatico così come il fantasma di barbara boucher qua è tutto a caso non c'è nemmeno più il gatto cagliostro doppiato da ruffini che era simpaticissimo cagliostro è diventato un ventaglio ma poi ad un certo punto addirittura si scopre che c'è un siero magico che ti può togliere i poteri quando nel primo film più volte ad alberto ha ribadito che fosse stato bullizzato da giovane che lui non vorrebbe essere un lupo mannaro ma caspita c'è questo potere che ti permette di disfarti della tua maledizione chiamala come vuoi e qua lo si usa così perché non ci si è pensato prima perché non si è raccontato proprio un racconto in cui ad alberto per vivere in pace con la sua fidanzata magari anche in vista di un imminente matrimonio mostruoso perché non si è raccontato di un ad alberto che attraverso questa pozione magica si liberasse del suo essere lupo mannaro per poi rendersi conto durante il proseguimento della pellicola che dei poteri del suo aspetto sovrannaturale avesse bisogno perché non c'è anche un gioco su far capire quanto in realtà essere mostri non sia un qualcosa di brutto e da evitare perché perché si va incontro ad un film che invece non fa ridere con personaggi a caso con dialoghi che tentano anche di far divertire ma senza mai riuscirci non mi basta che massimo ghini sia bravo lo sappiamo così come ilaria spada fa comunque la sua figura nei panni di stella ma sembra un voler forzare un film che non aveva bisogno di seguiti come una famiglia mostruosa o perlomeno il seguito avrebbero potuto anche farlo ma se ci fosse stata un'idea più carina io ve ne ho raccontate due così d'amblè che mi sono venute distinto la famiglia che viene scoperta e quindi sono gli animali da circo bisogna scontrarsi con gli esseri umani per poi arrivare ad un accordo e quindi risate scherzi giochi degli equivoci ma anche se proprio avessero voluto un minimo accenno a non è brutto essere mostri oppure il fatto di disfarsi della propria maledizione perché per ad alberto se ricordiamo quel che diceva nel primo lo è visto che veniva bullizzato veniva picchiato per poi rendersi conto che forse può esserci un equilibrio fra umanità e bestialità niente di tutto ciò se l'aveste visto fatemi sapere la vostra nella sezione commenti intanto il poster di the irishman è venuto giù questo è un qualcosa di paranormale sicuramente è stato uno dei protagonisti di questo film personaggi inutili film che non fa ridere purtroppo si sente anche la durata di un ore 40 mentre il primo era molto più coinvolgente di intrattenimento il finale di un anticlimatico che non ve lo sto nemmeno a dire ci sono crateri logici con il film precedente quindi questo è il mio parere su un matrimonio mostruoso meno male c'è mattioli che ogni tanto con il suo dialetto romano mi fa proprio ridere di gusto però qua mi ha regalato dei sorrisi e proprio perché è lui sono lontani tempi di fratelli d'italia e di tanti altri film tifosi in cui proprio mattioli lo adoravo meno male grazie al suo carisma grazie a queste sue uscite riesce in dei momenti di stanchezza del film a farmi almeno sorridere però per il resto è proprio un film bruttissimo fatemi sapere nella sezione commenti se l'aveste visto cosa ne pensate magari a voi è piaciuto però mi dispiace perché de biasi mi ha sempre regalato una leggerezza di cui ho bisogno da amante del cinema italiano anche più semplice di quei film che fanno stare bene ma questa volta toppato in pieno a mio avviso ma anche ascoltando i pareri di quelli in sala a detta di chi era con me alla fine primo tempo si è sentito nel silenzio che cagata pazzesca e mi dispiace perché comunque col fango de biasi può fare di meglio un caro saluto noi ci vediamo ad una prossima recensione ciao ciao